Ovvio Tan 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 Si deve essere stato una merda nella vita precedente No No, sono stato premiato per avere degli amici così Dai amico non fare così Mamma mamma Dai amico non fare così Ma è fighissima la roba arca puttana Ma le ruote tengono di più secondo me queste Se le lasci su Hai la coperta termica? Esatto Saluta Paolo Superi il culo ma da qua fino a qua Dai amico non fare così E' anonimo non sai chi è stato Giusto giusto Grazie